si salve si però volevo sapere se era possibile andare oltre allora siccome io siccome io non ho più il fatto del volevo sapere se era possibile come detto si no questo l'ho capito lo volevo sapere se era possibile fare quella diciamo prima no siccome ha detto wind giusto ma è 3 sì e cosa perché cosa scusi per internet a casa sì però diciamo che non il prezzo quello prima però mi deve dire se era possibile andare o diciamo per allora siccome amici se era possibile fare questo cia questa tipo la supercazzo no se gli amici dicono gli piace che cosa dobbiamo fare per casa no allora allora gli spiego siccome amici su tik tok sono aumentati no e vuole sapere se gli piaceva questo tipo di tipo di la patologia getta diciamo la supercazzo se gli piaceva no no non c'è non c'è questo tipo di patologia no allora io quello che gli dicevo io gli amici di tik tok se se loro gli piace questa cosa qui siamo la supercavo oppure voglio che faccio tipo quello che barbuzia fa papà papà così oppure diciamo l'innamorato lo devono dire loro quello quello di tik tok per ha capito lei come si chiama ma che c'entra tik tok qua scusa no è perché non mi prende non prende prende ha capito se lei ha una vuole navigare su tik tok si lei ce l'ha no io non ce l'ho infatti e lo deve scaricare così vedrà tutti i video mi sembra un'applicazione per i bambini infatti no assolutamente ci sono anche le donne quelle nude sì assolutamente che sì mi sembra un'applicazione per i bambini no 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 e forse magari non può utilizzare un signore come lei il tik tok scusa allora forse lei perché scarica tik tok e vedrà che ci sono delle cose ci sono ricette ci sono gli scherzi quello che sta andando adesso forte sono gli scherzi telefonici ai call center quelli che chiamano i call center quelli sono diciamo stanno andando a forte c'è uno che si chiama nunzio quattrocchi che sta andando a parte dei scherzi a parte dei scherzi io infatti ho contato realmente per la rete fissa a internet a casa ma tu come ti chiami quindi lei sarebbe interessata di valutare un po' ma se come ti chiami così magari alessia ho detto alessia alessia sei albanese alessia no non sono albanese di dove sei alessia sono rumuna rumuna questa è la prima volta che ascolto rumuna eh sì non si dice rumena c'ho 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 rumuna sono io rumuna ah sei dalla ruma rumunia rumunia si no rumuna si rumuna sono io ah e quanti anni hai non la conosce no dalla rumunia no la conosco la rumunia si 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 dica infatti ah ma allora diciamo la pronuncia diciamo per dire a una che viene dalla romania è rumuna si ah non è rumena o romena no 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 questo è in italiano invece è in ruma in romanesco no in romanesco di Roma quanti anni hai quando dicembre quando quanto dicembre ehm a dicembre a dicembre non ho capito quanto anni quanto dicembre quando anni mi daresti quando anni mi daresti stevo ehm 25 no scusi per l'intervenzo signor Nunzio sono i responsabili dell'ufficio ehi responsabile amici di Tiktok sono responsabile tutto bene tutto bene mi dica responsabile perfetto allora lo sto condattando in merito già a nostro cliente per il cellulare oppure non ce l'ha perché nella mia sistema mi risulta il tuo numero ce l'ha con Wings e come lo sai mingga questa è una cosa comunque qua allora siccome gli amici di Tiktok non vogliono non vogliono guardare i video così come ti chiami? io sono Alessio allora Alessio siccome gli amici di Tiktok non vogliono i video così lunghi su Tiktok si annoiano no? perciò magari ci possiamo salutare ecco bellissimo bellissimo vi voglio bene ciao ciao sono stato chiamato da Lorenzo? sì nove giorni fa non so se l'ha spiegato bene mi dica perché non mi ricordo sì ti spiego anche perché io sono il responsabile del progetto quindi Lorenzo è un mio dipendente allora si annuncio si tratta di essere parte di un progetto settimanale cosa significa? che inizia oggi e finisce il lunedì prossimo nell'arco di questi cinque giorni lavorativi più sabato e domenica è un gruppo di professionisti i prescelti nostri che grazie alle metodologie ai meccanismi che noi abbiamo a disposizione riusciamo a fare delle operazioni giorno dopo giorno per generare un guadagno che va da 33% fino al 127% in più cosa significa? che vengono accumulate tutte queste operazioni tutte queste entrate e vengono ripartite poi per ciascun cliente perché su ogni progetto fanno parte circa mille clienti solo io per esempio ne faccio 33 al giorno ci annuncio cosa significa? ad ogni cliente viene associato un codice promozionale questo codice promozionale le dà la possibilità di essere parte sul progetto e questo progetto per esempio che sto parlando è il progetto numero 138 lei 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 ha mai partecipato su progetti del genere o no? io ho partecipato al Mernello ah? come è andato? è andato bene il Mernello è un progetto Mernello non so se l'ho sentito sì 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 l'ho sentito è un'altra società comunque questo si tratta si chiama anche il progetto dei vincitori essendo che comunque sia nel peggior caso comunque è il 33% garantito il 35% è garantito ma non credo che può battere il Mernello però perché il Mernello lo sai benissimo che è molto migliore di quello che mi stai dicendo capito? io non so non so dire con certezza per l'altra società se non ci posso parlare con certezza per la mia società quello che a noi ci interessa è che lei vede la realtà cioè le prova sì ma lei l'ha mai provato il Mernello? è perché sinceramente se annuncio però lo sai lo sai diciamo che cos'è diciamo è il progetto Mernello giusto? l'ho sentito il progetto Mernello sì il progetto Mernello sì 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 praticamente loro hanno più interessi e più perciò non so se è possibile per me l'ho capito e quando io ho provato il progetto Mernello poi non sono andato indietro più capito? Mario non so se annuncio io tu come come ti chiami tu? Mario come hai detto? Riccardo 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 dove sei Riccardo? di origine sono di Portogallo ah Portogallo mio nonno era italiano ah conosci il Mernello visto che sono in italiano conosci il Mernello sì 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 però ti dico la verità io siccome la mia società si trova a Londra non è che ho tante conoscenze poi sì però conosci il progetto Mernello giusto? devo essere sincero se annuncio no non la conosco come avevi detto di conoscerlo hai detto sicuramente avevo sentito qualche cosa però non ti posso parlare cosa si tratta effettivamente sì 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 che cos'è? sì no il progetto Mernello sono degli azioni che prendi in borsa che poi praticamente tu e allora vai nel Mernello perché si trova in Sicilia diciamo è stato fatto quanto è la durata? la durata diciamo è infinita perché hanno fatto diciamo che ci sono anche io nel mezzo del progetto Mernello dico dura 10 giorni una settimana allora anche 15 a volte a volte anche 15 perché praticamente ti spiego quando prendi quando fai nel progetto Mernello c'è anche TikTok non so se hai mai sentito parlare di TikTok sì quello sì 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 TikTok praticamente lo metti là e speri di andare ovviamente ai click poi ricevono anche i guadagni giusto? sì sì uno diciamo con la speranza che il Mernello diventa virale aumenta sì il guadagno ho capito ho capito perfetto benissimo ci annuncio allora io non non dico di far parte sul progetto Mernello ma sul progetto settimanale sulle azioni Amazon noi sfruttiamo l'andamento del mercato specialmente sul petrolio guarda sì ma io mi trovo bene anche poi veramente se vai su TikTok e fai hashtag Mernello e poi Mernello e poi puoi capire diciamo quello che deve essere per il fatto del del TikTok perciò io ti consiglio anche di dare un'occhiata a questo Mernello è buono anche per lei per te ti do il tuo perché Mernello devo fare una ricerca Mernello TikTok sì sì hashtag Mernello TikTok va bene va bene Riccardo giusto quando ci sentiamo? come? cioè quando ci sentiamo dico? sì se possiamo sentire ti posso dare più informazioni per il Mernello va bene? quando vuoi tu? va bene? dalle 3 alle 5 ho più tempo ok oggi? non so se è possibile oggi è lunedì non so no domani domani verso prima delle 3 così per il progetto Mernello va bene ti posso chiamare prima delle 3 così possiamo avere informazioni in più sì 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 va bene grazie a te ciao e vive Mernello ricordalo vive il Mernello dillo vive il Mernello Mernello viva il Mernello vabbè poi vabbè domani poi mi dà più informazioni va bene ok devo avere signor Anuncio devo avere un computer un cellulare non so chi? sì sì un cellulare va bene un cellulare va bene no io di solito utilizzo il computer visto va bene il mio cellulare è più per il Mernello va bene ok allora ok grazie signor Anuncio ciao grazie ciao ciao non ci posso credere vive il Mernello pronto? è pronto? sì buongiorno sono Martina la contatto dall'Italia per conto di Amplifon circosti all'uncio quattro occhi aspetta che lo dica papà un minuto papà sì come ti chiami? come ti chiami? sì l'amplifon contatto da Amplifon ma aspetta papà papà c'è quello papà 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 pronto buongiorno buongiorno la contatto da Amplifon lei è il signor Nuzio Quattro Occhi eh? dicevo la contatto da Amplifon eh dall'Arnil dall'Arnil sì 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 lei ha richiesto di essere ricontattato? ricoverato ricontattato ricontattato dar perché dimmi per un test gratuito dell'udito me il dito il mio dito udito udito il dito il dito mi di no l'udito udito ufficio sì come? la richiamo la ricontattiamo allora mi dica prego signora signora ma chi dà il mio numero a questi chi? chi sei? chi sei? and pronto? eh? pronto? buongiorno sono Elena e la contatto da Amplifon per la richiesta che ha fatto sul sito eApros parlo col signor Nunzio lei che ha Amplifon sì contatto da Amplifon sì mi di ok è interessato a prendere un appuntamento per effettuare un controllo per l'udito per il mio dito? sì per l'udito non la sento può parlare più forte allora è interessato a fare un controllo dell'udito? per il mio dito signora sì cosa devo fare? allora vuole fare un controllo? per il pollo? signora? pronto? Amplifon il phone è Amplifon l'udito? per il mio dito sì e cosa devo fare con il dito signora? ok vuole che le fissi un appuntamento ha fatto lei richiesta? per la festa non la sento per la festa signora per quale festa? Amplifon l'udito nessuna festa no cosa dobbiamo fare per la festa signora io mi dica no no non è nessuna festa io la chiamo Amplifon il phone non la sento bene può parlare più forte che non ci sento è pronto il controllo l'ha contatto da Amplifon il centro per l'udito mi avete chiamato poco fa vero? già siete stato contattato quindi per il controllo gratuito per che cosa? per il controllo gratuito gratuito per il vertuto il controllo il controllo dell'udito del mio dito? sì mi dica cosa è successo? la contattavamo per la richiesta che abbiamo ricevuto per il controllo gratuito ci risulta che eravate interessato? per lo stufato? no ci risulta che eravate interessato al controllo gratuito e mi dica che cosa mi deve fare? se ora siete interessato al controllo gratuito le posso dare l'appuntamento in filiale ma se mi può parlare più forte non la sento ho detto siete interessato per fare il controllo gratuito ma io non la sento più forte pronto per il controllo gratuito deve parlare più forte solo per lei me lo puoi ripetere per favore io allora telefono mi date il telefono ma che è l'iphone 13 dici no quale telefono quello di casa ah che telefono di casa è modello gpmc che è di noi è un ultimo modello diciamo tipo gpmc che è di noi gpmc ma io ma io allora praticamente è la compagnia non ho capito che compagnia è Udim Udim io c'ho il mernello io c'ho la compagnia mernello mernello allora mernello praticamente qua nella nostra zona non è che prende bene no il mernello a maranello no è compagnia mernello eh lo so è una compagnia telefonica lo so non la conosco sono vent'anni che faccio questo lavoro eh appunto allora dovresti conoscere come si può fare la portabilità da mernello 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 si si cosa sto dicendo da mernello intimo si può fare la portabilità ma però non credo che avete la stessa diciamo che c'è il mernello il mernello io c'ho il limitato internet giusto giusto il limitato il telefono il limitato mi danno pure il limitato mi mandano pure delle bevande il limitato giusto con noi si in più di questo anche un barattolo di salsa muti perché dite scusate 5 kg di salsa muti salsa vera salsa muti quella reale oh ma lo senti allora puoi parlare con mia madre no non mi interessa io c'è lui che fa tutto che salsa utilizza lei per i spaghetti per i spaghetti che salsa utilizza va bene fatela fare con mio figlio no ma che salsa utilizza tu ma tuo figlio non ce la fa mangiare 5 kg di salsa muti tu che salsa utilizza ma io salsa fresca noi abbiamo i pomodori qua capito eh però meglio salsa muti per lei ma noi abbiamo i pomodori della sicilia i pomodori della sicilia abbiamo noi capito ah perché è siciliano certo fino all'osso io sono di palermo compa sono di palermo si si sente dall'accento sei di palermo hai caputo allora eh si ho caputo comunque dai tu non credi che puoi battere il mernello il mernello è il numero uno fratello eh come mernello il mernello non ci fai con mernello ancora il manganello forse ma non mernello il mernello il mernello io dico che sei di chi di dove sei scusa io sono siciliano no non ci credo ma come non ci credi e tu di dove sei perché io ora ti sto vedendo dalla telecamera del computer non mi sembri siciliano beh perché che c'hai nella telecamera del computer perché mi stai vedendo e come so hai la barba è siciliano nato in america sono siciliano eh sì che lei è bravo che questo qua se non ci si vede che eh siciliano nato in america eh signora siciliano davvero nato in america eh solo la signora sa il papà chi è il papà capito tu non sai niente solo tu puoi sapere quello papà solo tu eh certo perché nell'epoca era un casino con le guerre seconda guerra mondiale la terza che stava cominciando la guerra fredda che faceva freddo senti troppo divertente veramente ma allora che che devo fare eh va bene allora allora niente tu con il mernello ma tu lo dove vai e adesso vado a mangiare la salsa fresca che c'è da mangiare oggi ma oggi piselli oggi piselli si mangia è un po' di grano è un po' di parmigiano ah parmigiano pisello o piselli scusa non ho capito come ti chiami? come ti chiami? io mi chiamo Isuf Ciami Isuf Ciami no allora mi hai chiesto come ti chiami eh ho detto Isuf Ciami Isuf Ciami Isuf Ciami Isufo non Susam Isuf Isuf Ciami Isufo Isufo Ciami Ciami Isufo Ciami Isufa eh amici mi chiamano Zufa oh ho capito va bene allora dai e come facciamo? lo battiamo quello maranello mernello mernello martello? mernello mernello no non si può battere il mernello è unico ma che accessore è questo mernello? è nazionale o locale? solo siciliano solo qui in Sicilia no no ma mernello no no non sei in Sicilia perché dalla foto che vedo io dove ti trovi non sei in Sicilia ma tu che che foto stai guardando? scusa no no abbiamo abbiamo l'opzione telecamera view next l'opzione view next non so se l'ha mai provato quando parli con qualcuno al telefono in automatico si scatta anche la telecamera per vedere ah e in questo momento come sono vestito? non ti vedi a me? no e come sono vestito? no non ti vedo come non ti vedi? eh vedi sto facendo il segno con la mano eh ciao Anunzio ciao no veramente non mi vedi? e tu invece come sono vestito io? vediamo se lo sai eh come sei vestito? tu non hai niente? come non hai niente? sopra perché non si vede i pantaloni si vede solo sopra ah allora adesso c'è la camicia quella nera bianca nera tipo juventino mi e come fai a saperlo? scusa ti ho detto che ti vedo? eh ma vedi sta gran fungo ah 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 ok dai fratello che devo andare a mangiare dai ho capito ho capito che ti piace più la cappella dei funghi si si un abbraccio bello ciao ciao dove vai? a mangiare ci porti su coso là cos'è tiktok whatsapp cos'è quello là che fai tu di solito ora ora ti ci metto ti ci metto vuoi che ti ci metto? eh eh allora saluta gli amici saluta gli amici di tiktok dai salutiamo gli amici di tiktok era uno scherzo che io volevo fare al nostro grande amico non ci ho perché un bel po' che cercavo di chiamarlo non rispondeva però guarda non è impattibile lui veramente cos'era quello di gestore lì? Marnello 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 ciao amici di tiktok un saluto da da qua dintorni dintorni la precisa dall'albania eh bravo no 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 chi? io non io parlo albanese vero o no? no siamo in Italia sempre in Italia dove sei? qua siamo a Roma ah al posto vicino a Ponte Galera diciamo quella zona ho capito facciamo lavoriamo 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 tiriamo avanti allora un grande saluto anche i nostri amici albanesi che ci seguono sempre giusto? sì 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 un abbraccio un abbraccio un abbraccio a tutti viva l'albania ciao buona giornata ciao bello ciao 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 salve salve buonasera buonasera e ho detto come perché non lo capivo ebbene che cosa era ho detto vediamo che cosa e allora ho preso stare poi poi sono andato l'ho preso la telecamera l'ho accesa perché siccome lo faccio io su facebook e ho detto va bene vediamo che questo video va virale e allora io ho premuto il tasto allora ascolti io sto lavorando se lei vuole informazioni io sono qui disposta a darle le informazioni di cui lei necessita se lei deve scherzare o è interessato a fare altro proseguo a fare altro io proseguo a fare il mio lavoro sì però scusi no per qualche cosa siccome l'ho detto di fare il tasto e allora io siccome lo faccio su facebook faccio e ha detto vediamo perché siccome chiamate allora ha detto per vedere così faccio andando virale d'accordo guardi non voglio essere scortese quindi la saluto e le auguro una buona serata sì ma scusa però lei non è giusto quello che fa ciao non so scorda ci abbiamo parlato ah che dovevo parlare con i miei genitori se mi davano i soldi ci siamo come ci siamo no cosa avevamo parlato allora noi abbiamo parlato riguardo il progetto dell'amazon riguardo investimenti controllati quello che abbiamo parlato ieri praticamente è riguardo il progetto che la tempistica è di solamente cinque giorni e praticamente con qualsiasi cifra che lei può entrare avrà un percentuale di profitto da 35 fino a 127 e se i soldi non ne ho come facciamo non ti credo non mi credi guarda che adesso allora io sono su facebook giusto e non so perché mi hanno tolto la monetizzazione senza un motivo ma tu puoi fare qualcosa io sono su facebook giusto ho una pagina mi senti e mi hanno tolto mi hanno tolto la monetizzazione ma è possibile questa cosa qua puoi fare qualcosa tu conosci qualcuno su facebook no e come dobbiamo fare non posso fare soldi adesso come faccio ma io non sono qua per darti le soluzioni riguardo ma tu mi devi aiutare tu mi devi aiutare come ti chiami giulia come ti chiami io sono Ilaria ah Ilaria Ilaria di dove sei Ilaria che di dove sei da origine oppure origine certo certo io ho detto di dove sei no dimmi sono spagnola si si spagnola come no non ti piace spagna no ma non è vero che sei spagnola l'accento non è spagnolo perché devi dire bugie Ilaria perché mi dice bugie sei sicuro certo no non hai nessuna bugia a me non non mi interessa questa parte a me si voglio sapere dove sei sono molto contenta sono molto contenta che sono da spagna allora hable spagnolo ovviamente che si però siccome stiamo parlando in italiano dobbiamo parlare in italiano no tu sai cos'è la mesa non c'è non sto scherzando io qua e neanche io sto scherzando hai capito perché mi devi dire bugie quindi è un altro discorso ma non è una bugia ti piace oppure no io sono da spagna si vabbè che c'entra la mia origina con quello che io ti sto offrendo la origina allora sei interessato di partecipare sul progetto sì oppure no perché non ho tempo da perdere con te sì ma io già te l'ho detto ieri che non sono interessato perché ancora mi chiami perché te mi hai detto chiamami domani perché parlerò con i miei genitori o non è così eh glielo ho detto ai miei genitori mi hai dato uno schiaffo cosa gli hai detto mi dai 200 euro mi hai detto mi hai detto Ilaria se mi puoi dare i soldi e mi hanno dato uno schiaffo in faccia e mi fa male ancora ok ok va a lavorare no tu vai a lavorare va a lavorare truffatrice io sto lavorando eh guadagno tanto invece te ti mantengono i genitori non hai nemmeno 250 euro no quindi pensa un po' non ce l'ho quindi quindi chi dovrà lavorare io oppure te ma io almeno quando non vado a rompere le scatole alla gente come te che chiamo ogni minuto invece io invece io non sono un moro di fame come te hola hola spagnolo hola como stas dai como stas un abbraccio caro mio ciao ciao va vai a imparare vai a imparare di parlare come si deve perché non si dice così ah come oh sconto di merda ah vai 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 a morire è tutto registrato figlio di Pupana figlio di Pupana che non sei altro vai fatti in culo è tutto registrato sono molto professionali questi del call center guai chi li difende come ti chiami Maria Grazia Maria Grazia che bel nome e di dove sei come siciliana come lei ah e come sale che sono siciliano scusi è perché un po' mi risulta che è corretto vittoria ma sa tutto di me ma come fai questa bella ah mistero scusa io qua ho paura ah no per verità ma tu di dove sei Maria Grazia Catania ah allora siamo vicini ci possiamo anche ci possiamo anche conoscere perché la voce mi sembri mi sembri anche che è una bella ragazza quanti anni hai è un bel po' tipo eh non si dice eh dai no signor Nunzio è interessato alle proposte di ma ma già mi mantieni le distanze signor Nunzio ma come noi dobbiamo conoscerci e tu mi dici signor Nunzio no eh io sono forte pensiamo ragazzi come sei combinata allora in che senso di come sei quando sei alta capelli biondi scuri no ma io non sono tenuta a dire questo io propongo le proposte team ma tu mi sei sai tutto di me sai dove abito sai dove sono ma come scusa ma ragazzi una domanda come fai a sapere tutte queste cose cosa come mai cliente team comunque adesso cosa mi proponi allora noi proponiamo linea telefonica no io parlo cosa mi proponi tu se dobbiamo uscire io non propongo niente signor Nunzio possiamo più ma non mi chiamare signor Nunzio non mi chiamare signor Nunzio mi fa sentire vecchio eh 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 allora ma ringrazia allora dai sì mi dica come mamma sai tutto io sono tu invece tu sei il mio tu sai mi chiamo tutto che anno sono vicini vicini vicissimi ma tu sei meno o di più di più bella bella mi piace la donna matura immagino e allora quanto viene a Scoglitti perché io sono di Scoglitti a fare cosa a conoscerci ma sei tutto di me io sono impegnata eh vabbè lo lascivi a Catania che ne sa lui eh mica lo sa va bene io non ce chiudiamo qua la chiamata basta mi molli mi molli così eh ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene ma le grazie grazie mille una buona serata a te gioia ti voglio bene te bebe televisione signore allora come c'era la televisione accesa mi puoi ripetere tutto quello che hai fatto e detto Sì, sì, sì. Sto dicendo, avete un abbonamento di Sky TV, signore, per la parte di televisione? Allora, dobbiamo gestire per il fatto del Nara, non lo so perché. Per la Sky oppure per... avete capito? Sì, per la parte di Sky, signore. Allora, mi dica, perché praticamente io, oltre a fare della TV, volevo testare il fatto del coso, no? Mi capito? E volevo sapere se era possibile entrare là dentro, perché ogni volta c'è sempre il fatto della TV di Sky, capito? Sì, sì, capisco. Allora, signore, avete chiamato i servizi di clienti di Sky, signore, per questo problema? Ma più che ho chiamato appena il mio cugino, quello là, siccome elettricista, e ho detto come mai questa cosa era... E lui mi fa, no, veramente è una cosa che dobbiamo chiamare proprio il servizio Lerna. Voi potete farlo questa cosa? Io personalmente no, perché sono un semplice operatore e per questo sto dicendo che devi contattare i servizi di clienti. Ma per fatto del mernello? Come? Perché mi hanno detto che c'è coinvolto il mernello, perché il mernello va da tutte le parti, volevo sapere se era possibile. Sì, sì, signore. Oh, va bene. E quando... come possiamo fare? Per informazioni più dettagliate, devi contattare i servizi di clienti, perché... E voi non siete i servizi di clienti, voi che cosa siete, scusa? Noi, signore, siamo per la parte di lasciare l'informazione per la parte delle nuove offerte, ma i servizi di clienti sono... Ma allora mi potete congiungere a fare dentro? Oppure... No, signore, facciamo così, facciamo così. Io ho contatto... mi dà il nome, signore? Arnakam Arnelolos. Ok, allora... Puoi ripetere, magari l'hai sbagliato scriverlo. Sì. Sì? Anche una volta sì. Ah, sempre? Mhm. Come mai, dico? Come mai questa cosa qui? No, mi sembra che mi state tipo facendo uno scherzo. Possibile? No, signore, che scherzo? Sto dicendo. Eh no, perché mi sembra che questo è uno scherzo, no? Non è possibile? No, signore, no. Non faccio nulla. Eh no, perché a me mi sa che mi state prendendo in giro, però, no? Eh, io mi sto arrabbiando. Io scrivo un'email al servizio di clienti e lei... E loro li contattano a lei. Allora, signore, puoi scrivere... Per questo sto dicendo. Ok, allora, puoi scrivere che... Nel mail di verità, Lollo, c'è stato il fatto del mernello. Voi lo potete fare? E un po' loro vediamo cosa ti dicono. Ok. D'accordo. Sì, per questo avevo bisogno per il nome, perché devo sapere chi cliente è. Ah, ma hai scritto giusto il mio nome? Come, come? Hai scritto giusto? Penso che no. Deve ripetere anche una volta, ma mi fa con felicità, prego. Ok. Deve ripetere anche una volta, ma mi fa con felicità. Arnello o Cisnello? Arnello scrive... Ah, è il blog. Cisnare e Cisnare. Va bene? Ok. Giulio, di dove sei, Giulio? Allora, signore, gli spiego così. Io sono nato a Italia, ma i miei parenti sono albanesi. Ah, ho capito, ho capito. E poi sei ritornato all'Albania. Come? E poi sei ritornato all'Albania? No, 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 no. Sono in Italia e studio nell'Università di Bologna per medicina, signore. Per medicina e chirurgia. Ah, e fai il lavoro al call center per ritornare a rotondare. Ah, bravo, bravo, Giulio, bravo. Ok, Giulio, ti saluto e ti mando bene l'Erosteco per il fatto del Maneros. Va bene? D'accordo, signore. Grazie. Però non dimenticare il Mernello. No, no, d'accordo, signore. Va bene? Vive il Mernello, Giulio. Ciao. Sì. Ciao. Lei è l'ultima che ha pagato. Ha visto controllato? Può ripetere, per favore. Non l'ha sentito? Può ripetere, per favore. Che cosa, signore? Quello che ho detto non l'ho sentito. Ci spiego io. Allora, si tratta per le ultime bolete della luce perché a casa dei aumenti che sono successi purtroppo sta pagando più del dovuto. L'è l'ultima bolete della luce che ha pagato e l'importo nero quanto era? Ma scusi, puoi ripetere, per favore? Non l'ho capito bene. Ok, che parola non l'ha capito lei, signore? No, tutto, tutto. Tutto? Ma lì mi ascolti quando io lo parlo? Eh, mi sto nozzando adesso. Mi puoi ripetere, per favore? Non l'ho sentito. Ovviamente lo ripeto io, signore. Grazie. Allora lo ripeto piano, piano. Noi, signore, li abbiamo contrattato per le ultime bolete della luce. Ha capito fin qua? Ah, prego. Perché, signore, a casa dei aumenti che sono successi, mi senti giusto? Puoi ripetere un'altra volta, puoi ripetere, per favore? Perché a casa dei aumenti che sono successi, che cosa ha sentito lei? No, dall'inizio, non l'ho capito. Ma che cosa no? Allora, lei non mi senti oppure non capisce? Eh, no, mi sto alzando adesso. Mi puoi ripetere, per favore? Non ci arrabbi. Sì, signore, lo ripeto io. Sì. Li abbiamo contrattato per le ultime bolete della luce. Ha capito fin qua? Eh. Che cosa ha sentito? Mi puoi ripetere a me un attimo? Che lei mi ha contrattato per le uova scadute. Per che cosa? Le uova scadute. No, le ho detto per le bolete della luce. Ah. Sì. Sì. Eh, ha sentito adesso? Mi puoi ripetere un attimo? Per che cosa le sto contattando io? Per le classiche delle dute. Per che cosa? Le classiche delle dute, là, non l'ho capito. Signore, c'è un altro familiare tu a casa che mi puoi aiutare a me? Sì, aspetta che gli passi a mio padre, che mio padre capisce. Un minuto. Ok, grazie. Pronto. Sì, mi senti, signore? Eh. Che c'è? Mi dica. Allora, signore, le abbiamo contattato per le ultime bolete della luce, perché a casa dei omeggi che sono su tessi... A me mi ha aumentato la luce? Come mi ha aumentato la luce? Giovanna! Cos'è la matrice, c'è due, con il mio bot. Ti be' giù, ma? No, non mi piace la scuola di persone. Ciao. Televisione, signore. Allora, come c'era la televisione accesa? Mi può ripetere tutto quello che hai fatto e detto? Sì, sì, sì. Sto dicendo, avete un abbonamento di Sky TV, signore, per la parte di televisione? Allora, abbiamo gestito per il fatto del Nara, non lo so perché. Per la Sky, oppure per... Avete capito? Sì, per la parte di Sky, signore. Allora, mi dica, perché praticamente io ho già fatto della TV, volevo gestire il fatto del coso, no? Mi capito? E volevo sapere se era possibile entrare là dentro, perché ogni volta c'è sempre il fatto della TV di Sky, capito? Capisco. Sì. Allora, signore, avete chiamato i servizi di clienti di Sky, signore, per questo problema? Ma, più che ho chiamato appena il mio cugino, quello là, siccome è elettricista, e ho detto, come mai questa cosa era? E lui mi fa, no, no, veramente è una cosa che dobbiamo chiamare proprio al servizio Lerna. Voi potete farlo, questa cosa? Io personalmente no, perché sono un semplice operatore, e per questo sto dicendo che devi contattare i servizi di clienti. Ma per fatto del mernello? Come? Perché mi hanno detto che c'è coinvolto il mernello, perché il mernello va da tutte le parti, volevo sapere se era possibile. Eh, sì, è simile. Oh, va bene. E quando, come possiamo fare? Per informazioni più dettagliate, devi contattare i servizi di clienti, perché... E voi non siete i servizi di clienti? Voi che cosa siete, scusa? Noi, signore, siamo per la parte di lasciare le informazioni per la parte delle nuove operte, ma i servizi di clienti sono... Ma allora mi potete continuare a fare dentro? Allora, signore, facciamo così, facciamo così. Io ho contato... Mi dà il nome, signore? Arnacam? Mmh. Arnelolos. Ok. Allora... Può ripetere magari, magari l'hai sbagliato scriverlo. Sì. Sì? Anche una volta, sì. Ah, sempre? Mmh. Come mai, dico? Come mai questa cosa qui? No, mi sembra che mi state, tipo, facendo uno scherzo. Possibile? No, signore, che scherzo? Eh, no, perché mi sembra che questo sia uno scherzo. No, non è possibile. No, signore, no. No, non faccio nulla. Eh, no, perché a me mi sa che mi state prendendo in giro, però, no? Eh, io mi sto arrabbiando. Io scrivo un'email al servizio di clienti e lei... e loro li contattano a lei. Allora, signore, puoi scrivere... Questo sto dicendo. Ok, allora, puoi scrivere che... Nel meno evitare l'orlo, c'è stato il fatto del mernello. Voi lo potete fare? E poi vediamo cosa ti dicono. Ok, d'accordo. Sì, per questo avevo bisogno per il nome, perché devo sapere chi cliente è. Ah, ma hai scritto giusto il mio nome? Come? Come? Hai scritto giusto? Penso che no. Mi deve ripetere anche una volta, ma mi fa con felicità, prego. Ok, Arnello e Cisnero. Arnello e Cisnero. Ah, è il blog. Cisnero e Cisnero. Va bene? Cisnero. Ok. Giulio, di dove sei, Giulio? Di dove sono? Allora, signore, vi spiego così. Io sono nato a Italia, ma i miei pareti sono albanesi. Ah, ho capito, ho capito. E poi sei ritornato in Albania. Come? E poi sei ritornato in Albania? No, 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 no. Sono in Italia e studio nell'Università di Bologna per medicina, signore. Oh, capito. Medicina e Inclologia. Ah, e fai il lavoro al call center per ritornare a rotondare. Ah, bravo, bravo, Giulio, bravo. Ok, Giulio, ti saluto e ti mando bene l'erostecco per il fatto del manero. Va bene? D'accordo, signore. Grazie. Però non dimenticare il mernello. No, no, d'accordo, signore. Va bene? Vive il mernello, Giulio. Ciao. Sì. Ciao. Sì? Pronto? Parlo col signor Nunzio? Sì, chi sei? Salve, buongiorno. Certo, mi presento. Mi chiamo Daniel e sono consulente specializzato per quanto riguarda il prodotto Erectil, signore. Le capsule per la potenza sessuale maschile. Mi risulta che lei ha lasciato la richiesta sul sito. Mi conferma? Può essere o non può essere. Diciamo che però in questo momento ho un bisogno. Va? Per farci, fammi capire che cosa servono per le relazioni maschile. Stiamo parlando del prodotto Erectil, le capsule per la potenza sessuale maschile. Ha lasciato lei la richiesta o non, signore? Ma io non mi ricordo, però mi interessa. Guardi, se non si ricorda, ovviamente in questo caso provi, non so, magari ad andare su Google, scriva di nuovo Erectil, guardi tutti i dettagli per quanto riguarda il prodotto, così almeno ha la certezza del fatto che ha lasciato la richiesta per questo prodotto, ok? Eh, ma mi puoi spiegare che cosa serve a questa cosa qui? Sì, però lei mi dice che non sa se ha lasciato la richiesta o meno. Io devo avere la conferma del fatto che lei abbia lasciato consapevolmente ovviamente la richiesta. Eh beh, però mi puoi parlare, perché io come ho problemi in questo momento? Può essere che in un momento di solitudine, così, di depressione, ho fatto la richiesta e non mi ricordo, perché in questo momento ho problemi di erezione, perché... Infatti mi ha lasciato, sì, mi ha lasciato qua, la mia ragazza mi ha lasciato, tutto, tutto sto casino. E in questo caso, guardi, signor, non ce le spiego, dato che il metodo di pagamento viene effettuato in contanti alla consegna a ricevimento del pacco, per vedere se riusciamo poi eventualmente a montarle il pacco nella sua zona, mi servirebbe che mi indichi il codice postale del comune dove si trova. Ma ancora devo sapere se le devo comprare prima, perché non è che... Prima voglio vedere se funziona, ma se non l'ho soddisfatto al rimborsato? Infatti le sto dicendo per verificare, innanzitutto che, nel senso che senso ha, se io le do le informazioni e lei mi dice che lo vuole, poi non le lo posso far arrivare a casa. Dobbiamo prima rassicurarci del fatto che la consegna sarà prevista poi nella sua zona. E cosa vuole sapere? Il codice postale del comune dove si trova, quindi il CAP? 97019 97019 e l'indirizzo più preciso sarebbe il comune innanzitutto è Scogliti oppure Vittoria? Vittoria. Conosci Scogliti? Ok. E l'indirizzo sarebbe? Via Napoli 83 Via Napoli 83. Sì, le confermo che la consegna è prevista nella sua zona, perfetto, possiamo anche andare avanti. Andiamo avanti. Mi dica innanzitutto lei quanti anni ha, signor Nunzio? Ho 48 anni, a settembre faccio 49. Ok, mi aveva già anticipato il fatto di avere qualche disturbo per quanto riguarda l'errezione. Non mi attranda, non mi attranda bene. Quindi è un disturbo che si presenta ma non tutti i giorni? Solo, diciamo, la mattina quando mi alzo è duro come una pietra. Poi quando devo fare il sesso mi ammosce. Ok, ho capito. Porca miseria. Ma da quanto tempo più o meno si è accorto di questo problemino? Cioè, un paio di mesi. De quanto che mi chiamano quelli del cold center? Mi dica cattive abitudini, ne ne ha, fuma, abuso di alcol per caso? No, praticamente mi faccio qualche cannetta una volta a settimana. No, ok, ho capito. Mi dica perlomeno per quanto riguarda invece poi l'attività fisica, una vita movimentata oppure una vita sedentare, signore? Ma a volte corre, a volte cammina, a volte corre. Diciamo che è così colare, diciamo un po'. Una vita abbastanza attiva, ho capito. Quindi durante una settimana di tempo quanti rapporti sessuali eri abituato ad averne? 25, così. 25 rapporti? Sì, però non mi attrandava proprio, cioè 25 mai finiti. Perché in un giorno ne incominciavo una e non la finivo, poi ancora un'altra e non la finivo. Poi c'ho 3-4 giorni ma senza che li finivo. Mi attrandava e poi dopo che... Non raggiungevo mai il finale, diciamo. Il finale... Ho capito, ho capito. A parte quindi questo problema di errezione, per quanto riguarda problemi di accolazione precoce, non ne ha tutto? Ma a volte tipo, tutta una volta, neanche due secondi, pam pam e sparo tipo... Ah ok, in questo caso è un problema di accolazione precoce, ho capito. No, no, mi attranda e... Ma è un fattore magari anche psicologico, ho capito. Va bene, in questo caso guardi, io provo a dirgli per quanto riguarda questo prodotto di che cosa si tratta, come funziona, come si utilizza, la composizione, tutti i dettagli. Se per caso durante la mia spiegazione avrà qualche domanda, chiaramente me la potrà fare in qualsiasi momento, ok? Ma vorrei sapere, siccome mi hanno chiamato per quello che si allunga e si ingrassa, questo fa pure così, allunga e ingrassa? Mi hanno chiamato tipo un gel che si mette, che si passa? No signori, stiamo parlando di un prodotto per incrementare il livello della potenza sessuale. Ah, è tipo un Viagra? Tipo il Viagra, va? Beh, tipo sì, solo che a differenza del Viagra questo è un prodotto completamente a base naturale, lo può utilizzare anche per avere l'effetto immediato come il Viagra, ma non c'è alcun rischio che vada a interagire negativamente sulla sua salute, quindi è un prodotto in oco per la propria salute. Per quanto riguarda appunto questo prodotto di cui stavamo parlando, voglio ribadire di nuovo lo stesso identico concetto, è un prodotto completamente a base naturale, che non contiene componenti sintetici, quindi non c'è alcun rischio che comporti qualche reazione. E cosa c'è dentro, cosa c'è dentro? In poche parole, contraindicazioni non ce ne sono per quanto riguarda questo prodotto. Tra i principali benefici ovviamente che lei otterrebbe utilizzando queste capsule, innanzitutto otterrebbe un'erezione forte duratura, che è quello per cui sta optando anche lei maggiormente, un forte desiderio sessuale e avrebbe anche il puro controllo sugli a colazione, nel senso che aumenterebbe notevolmente la durata del lavoro. Bello, bello, bello. Per quanto riguarda la composizione del prodotto e per fargli capire a che cosa le aiuterebbero questo prodotto, innanzitutto il prodotto contiene arginine, non so se ne ha sentito parlare, regola il tono dei vasi arteriosi aumentando l'attività del sistema genitale maschile, contiene citrullina che è efficace nell'illiminare la disfunzione rettile e aumentando così la resistenza sessuale. 5 biloba che è proprio uno stimolante naturale di potenza ovviamente, mi sente? Sì sì sì, minchia, già già mi sta diventando duro solo a sentirla. Come? Mi sta diventando duro solo a sentirla. Le stavo dicendo che normalizza il flusso di sangue alla regione inquinale, rodeo la rosea che elimina i problemi di eredizione di carattere psicologico aumentando la sensibilità. Scusa, 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 un secondo, un secondo, scusa, io devo andare, aspetta, arrivo, arrivo. Dove devi andare, mi scusi? Scusa, no, devo andare, non posso parlare più. La ringrazio. Signore, gli avevo chiesto se... Mi hanno chiamato, mi ha chiamato la mia ragazza, arrivo. Lei ha detto che non ha una ragazza, signore, ha detto che l'ha lasciata da poco, o mi sbaglio? La ragazza, non la mia fidanzata, ragazza, va bene? La devo chiamare, la devo salutare. Signore, mi indichi almeno un orario quando potrei ricontattarla così almeno le spiego tutto sul prodotto? Tra un'oretta, va bene? Tra un'oretta, ok, ci risentiamo tra un'oretta. Ciao, 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 ciao. A dopo. Troppo lungo, troppo lungo, ma inchia, cazzo, troppo lungo. Signor Luntio? Sì. Sì, sono Daniel, ci eravamo sentiti un'oretta fa, si ricorda, mi diceva di ricontattarla tra un'oretta, perché doveva andare con la sua ragazza. Al momento la disturbo? Ah, guarda, il problema è risolto, mi diventa dura adesso. Come ho fatto a risolverlo, mi scusi, in un'ora di tempo? Eh, questa ragazza, cara mia, si è spogliata, pum pum, è diventato dura subito. Ha risolto il problema, la ringrazio, grazie a lei, forse perché mi ha detto tutte quelle cose. se stavo su qui mi sono veramente un po' eccitato, ed ho risolto tutto il problema. Mi è diventato con la mia un legno, un pezzo di legno. È sicuro che non sia una cosa per il momento, perché chiaramente ci si basa molto anche sul criterio psicologico, e probabilmente tenendo guarda del fatto che avevamo parlato del prodotto, chiaramente poi si è spogliata la ragazza, è chiaro che poi diventi duro, ma per quanto riguarda la durata del rapporto sessuale, la qualità del rapporto sessuale... è una bellezza, abbiamo fatto sesso, quella ora che lei è passata, diciamo, che non ho chiamato, tutto ha sesso, dura e in più, quando ho sparato, diciamo, è rimasto ancora duro, una cosa impressionante, senza pillola e senza niente. Ho risparmiato quanti soldi? Non è un risparmio o una perdita di soldi, perché sarebbe stato un investimento per la sua salute innanzitutto, perché il problema potrebbe averlo risolto anche per il momento, però con l'avanzare degli età, degli anni, che voglia lei o meno, ovviamente questi problemi comunque ricompariranno in futuro. Ma ti faccio le conna? Dopo una certa età, ovviamente ci sono... A lei, a lei, ma non a me, a me mi deve diventare duro sempre, fino alla fine, fino a quando morirò, e anzi gli dico un'altra cosa. E' per questo che le dico... Gli dico un'altra cosa, un giorno che morirò, devono avere problemi a chiudere la bara, e mi capisce perché. Certo, ho capito, ma a parte gli scherzi... Ma quale scherzi? Sto dicendo, se lei ovviamente ha la possibilità sempre di utilizzarlo per fissare il risultato per un periodo duraturo, in modo da non dover riscontrare simili disturbi in futuro, signore... No, 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 io adesso... Ho trovato la ragazza giusta, questa ragazza che a me me l'ha fatto diventare, caro mio, un ferro... Dopo la presente, il ferro, quello ferro che non si torce. Il ferro, uguale. Mi è diventato tranta, mi ha trantato proprio in una maniera esagerata. E' tutta un'ora, senza... E quando poi ho finito? Ancora era dura, era tranta. Dandola a ringrazio per tutto quello che ha fatto per me. Come ti chiami? Daniele. Daniele, di dove sei, Daniele? Ok. Di dove sei? Io di dove sono? La sto chiamando Verona, signore. No, no, tu, tu. Non di dove mi chiami, tu personalmente di dove sei? Io d'origine sono Vodavo, signore. Bah, Moldavia, belle, belle donne. Minchia, se vado là in Moldavia, caro mio, altro che pillole e cose. Minchia, è vero? Le donne... Minchia, là, caro mio, ci sono donne, caro mio, che la fanno diventare altro che ferro e legno. La fanno diventare, caro mio, un vulcano. Comunque, Daniele, sei stato bravo. Me l'ha fatto diventare duro, Daniele. No, tu... Ma come hai capito? Certo, ho capito. Ok. In questo caso le auguro una buona giornata. Ciao, ciao, e viva la fica. Ciao, 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 ciao. Salve, è il ristorante cinese? No, coreano. No, coreano, va bene. Niente, fate il sushi, lo fate? Hai detto che è coreano, non c'è il sushi. Eh, però calma, eh. Calmina, eh. Non è che per ora, perché siete coreani, siete migliori dei cinesi. Cosa lo dici tu? Eh, no, no. Di come parli sembra che siamo coreani. Tipo io, coreani. No? Eh, ma tu non sei là. Come? Non ho capito. Scusa, come ti chiami, ricordami. Emilio, Emilio. Ah, Emilio. Ah, venga, abbiamo fatto anche la canzone. Adesso ti dico come ti chiami. Ok, Emilio, ti ringrazio. Emilio, è stato un piacere parlare con te. Vuoi salutare gli amici albanesi? Tutto qui. E cosa dobbiamo fare? Eh, beh, ma io la sto connotando per un motivo, quindi lei non gliene frega proprio niente. Eh, mi sa di no. Ma senti una cosa. No. Siccome questo numero io non lo uso mai, non vado mai su internet, non faccio mai niente con questo numero, come mai avete questo mio numero? Eh, ma questo numero praticamente da qualche parte l'avrà anche comprato, no? Eh, eh, ah, praticamente quando tu compri, diciamo, quando tu attivi, automaticamente questo mio numero va a voi. Beh, ovviamente va alla compagnia dove lei ha comprato il telefono. Il telefono, mi scusi, la simma. È ovvio che i numeri ci sono sempre sui database. E voi prendete i numeri di qualsiasi italiano in questo caso. Ma signor, non c'è. Sì. Mi scusi un attimo, ma alla sua destra sopra, sono curioso di vedere dietro di lei, cosa sono quelle bottiglie bianche? Ma di che sta parlando, Giovanni? Quelle bottiglie bianche? Eh, vedo dei bottiglie con un tappo verde, su. Ma signor Luzio? Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ma no. Certo che lei è diventato un grande, grande, ma grande, proprio grande in Albania. Ma dove viene da piangere, no? Emilio sei un grande, Emilio, ti adoro. Va bene, va bene. Ti adoro, Emilio, veramente. Grazie a lei, grazie a lei. Facciamo vedere le bottiglie verdi qua. Bene, ci è fatto un piacere sentirla perché, sì, infatti, stavo guardando quelle bottiglie. Il mio cuore è tuo, Emilio, il mio cuore è tuo. Ti voglio bene, veramente, sei un grande. Continua sempre così perché sei un grande. Ho tutto il rispetto. Grazie, non so se veramente ti chiami Emilio, ma se ti chiami Emilio, ti faccio il cuore. L'altra metà me la fai tu. Grazie. Ciao, Emilio. Grazie, grazie. Un bacione. Ok, a risentirci, signor Luzio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Internet più data space on start in 4G LD, che è l'applicazione che protegge i dispositivi aziendali. Sì, sì. Compreso in questo abbonamento, sempre compreso nel prezzo, Tim, le d'altri... Ma mi dico, un secondo, come mai parli così bene l'italiano, mi dicono qua? Me lo sto dicendo. Mi dicono che parlo bene l'italiano. Sì, sì, mi sto dicendo che parli bene l'italiano, come mai? Eh, beh, si vede che ho vissuto per tanti anni in Italia. E dove, dove? Forse per quello. Beh, diciamo che ho girato un po' dappertutto l'Italia. Attualmente mi trovo a Milano. Ah, in questo momento non sei in Albania, allora. Com'è? Non sei in questo momento in Albania, vero? No, in questo momento non ci sono in Albania. Ma veramente, ma tu mi conosci? Perché dicono che... Ah, forse perché non sei in Albania non so chi sono. Non lo so. Ah, ho capito. Bene, allora... Sì? Come cliente praticamente dai dati che vedo sul database, ma non so, non so sinceramente chi è. Allora, ma avete detto che sono famoso in Albania, non avranno niente allora. Lei è famoso in Albania? Sì, come no? Dito lo anche... Di cosa si occupa lei, signore? E... Come... Non per parte di casi suoi, ma giusto per... Visto che lei è anche un conoscente famoso in Albania, quindi volevo giusto capire su quale strada diciamo che è famosa tutto qui. Praticamente in Albania facevo dei film porno. Dei film porno in Albania? Sì, esattamente. Beh, se ci sarebbe stato un posto per fare dei film porno in Albania, di sicuro lei sarebbe stato l'ultimo in fila. Perché? Eh, perché qua non mancano gli uomini, stia tranquillo. No, forse io... Tu lo conosci a Rocco Siffredi? L'ho già sentito. Eh, e allora? Rocco Siffredi praticamente per me è una... Un bambino piccolo per me. È un bambino piccolo, ho capito. Sì, sì. Ma come è possibile lei... E poi ci sono tipo... Si, è conosciuto, ma lei no però. Si, forse tu non mi conosci, ma in Albania mi conoscono come quello del... Il Rocco Siffredi è italiano che abita in Albania, cioè che lavora in Albania. Sarei stato prima a sapere se lei praticamente facesse dei film del genere in Albania, che a parte che in Albania non esiste una cosa del genere. No, io lavoro in Albania però diciamo in una casa, perché tu guardi molti film porno, Giulio. Che fai Gigolo? No, no, i film, poi c'è i film. Tu che fai? Eh, fai... Guardi molti film. Poi Giulio mi ricordo. Ricordami il tuo no. No, io non guardo i film. Ah, allora ecco perché non mi conosce ragazzi. Non mi conosce perché non... Ah, ecco perché. Magari con tempo impareremo a conoscere anche lei. Devi fare... Bene, intanto ci fermiamo un attimo signor Luzio per quanto riguarda l'abbonamento. Ci facciamo una pausa perché adesso stanno arrivando due ragazze e devo lavorare perché devo pam 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 pam. Ah, da noi si dice... Da noi non si dice pam pam pam, ma si dice vap vap vap. Ah, che bello. Vap vap vap. Così? Eh, vabbè. Guardi, come ti chiami? Ricordami il tuo nome? Tra un po' inizia già a lavorare signor Luzio, quindi... E tra un po' vengono due ragazze e devo fare questo sacrificio. Sono due bionde che vengono dall'Ucrania. Sono dei profughi. Ma senti una cosa, mi ricordi il tuo nome? Mi sono dimenticato. Emilio, Emilio. Emilio. Qua c'era una canzone che faceva così se te la ricordi. Ai 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 se faccio un figlio. Te la ricordi? Ai 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 lo chiamo Emilio. Sembra il meglio di pastiglio se una femmina non so. No, no, no. Non te la ricordo. Ma quanti anni hai? Forse perché sei ancora giovane. Quanti anni hai? Sì, io ne ho 21 anni. Ah, 21, giovane. Volevo venire a lavorare con me. Perché guarda che si fa più soldi. Perché qua con questo mestiere mi sa del call center. E' staccato. Scusa, come ti chiami? Ricordami. Emilio, Emilio. Ah, Emilio. Ah, vabbè. Abbiamo fatto anche la canzone. Adesso ti dico come ti chiami. Ok, Emilio. Ti ringrazio. Emilio. È stato un piacere parlare con te. Vuoi salutare gli amici albanesi? Tutto qui. E cosa dobbiamo fare? Ebbè, ma io la sto connotando per un motivo. Quindi lei non gliene frega proprio niente. Eh, mi sa di no. Ma senti una cosa. No. Siccome questo numero io non lo uso mai. Non vado mai su internet. Non faccio mai niente con questo numero. Come mai avete questo il mio numero? Eh, ma questo numero praticamente da qualche parte l'avrà anche comprato, no? Eh, è che... Ah, praticamente quando tu compri, diciamo, quando tu attivi, automaticamente questo mio numero va a voi. Eh, ovviamente va alla compagnia dove lei ha comprato il telefono. Il telefono, mi scusi, la simma. È ovvio che i numeri ci sono sempre sui database. E voi prendete i numeri di qualsiasi italiano in questo caso. Ma io non ci ho. Sì. Mi scusi un attimo, ma... Sì. Alla sua destra, sopra, sono curioso di vedere dietro di lei. Cos'è, 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 sono quelle bottiglie bianche? Ma di che sta parlando, Giovanni? Quelle bottiglie bianche? Eh, vedo dei, dei, dei bottigli con un tappo verde, eh, su. Ma signor Ruzio? Non ci credo. Non ci credo. Ah, ah, ah. Ma no. Certo che, certo che lei è diventato un grande, grande, ma grande, proprio grande in Albania. Ah, ah, ah. Ma dove viene da piangere, no? Ah, 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 ah. E Milo, sei un grande, Milo, ti adoro. Va bene, va bene. Ti adoro, Milo, veramente. Grazie a lei. Facciamo vedere le bottiglie verdi qua. Bene, ci è fatto un piacere sentirla perché... Sì, infatti, stavo guardando quelle bottiglie, stavo... Oh, il mio cuore è tuo, Emilio, il mio cuore è tuo. Ti voglio bene, veramente, sei un grande. Continua sempre così perché sei un grande. Grazie, non so se veramente ti chiami Emilio, ma se ti chiami Emilio ti faccio il cuore. L'altra metà me la fai tu. Grazie. Ciao, Emilio. Grazie, grazie. Un bacione. No, ok, a risentirci, signor Uziocco. Ciao, 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 ciao. Arrivederci. Ciao, 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 ciao.